francesco monte ed eva anger fanno pace chi l'avrebbe mai detto alla fine è arrivata la pace tra francesco monte ed eva anger dopo il canna gate scoppiato sull'isola dei famosi il reality show condotto da alessia marcuzzi a confermare la pace avvenuta è arrivato un selfie in cui si vedono monte e anger sorridenti accanto a pio e amedeo la location della foto è senza dubbio il maurizio costanzo show si chiude o almeno così pare una polemica che ha tenuto banco per settimane la anger infatti in diretta televisiva aveva accusato francesco monte di aver fumato marijuana nella villa poco prima dell'avvio della gara con lui anche altri concorrenti cui nomi sono stati resi notti da striscia la notizia il tg satirico di canale 5 che ha fatto quasi una guerra mediatica magnolia la produzione dell'isola monte ha sempre negato tutto sostenendo di non aver fumato marijuana in honduras e dove tra l'altro le pene per i trasgressori sono durissime uno scandalo che ha raggiunto l'apice quando la marcuzzi si è scagliata contro eva anger in trasmissione ora tra eva angere francesco monte sembra essere tornato il sereno il selfie servirà ad evitare ulteriori polemiche e soprattutto eviterà una battaglia in tribunale tra i due ex naufraghi lo scopriremo presto . . . . .